Manca poco all'inizio di Ballando con le stelle, ma pare che le questioni siano piuttosto spinose per Millie Carlucci. Il 28 settembre il programma riprenderà come sempre e anche in anticipo rispetto al passato, infatti sono previste due puntate aggiuntive dello show, segno che i numeri vanno alla grande. La padrona di casa è pronta a ripartire, il cast c'è ma ci saranno molteplici variazioni non previste. Queste scelte hanno portato anche a una buona dose di ripercussioni, cosa che probabilmente nessuno aveva immaginato. Infatti ci sono dei volti famosi, assenti, che non parteciperanno alla gara, cosa che, ovviamente, ha un suo peso. Ballerini fuori da Ballando con le stelle. Lo sfogo sul web. A dare la notizia di quello che sta accadendo, è stato proprio il diretto interessato. Si tratta di uno dei ballerini che hanno partecipato alle precedenti edizioni che quest'anno invece non farà parte del programma. In una diretta sui social ha scelto di spiegare cosa sta accadendo. Da quanto si apprende pare che sia stato sostituito, ma i fan si chiedono quale sia il motivo di questa scelta. La notizia riguarda Simone Casula, che ha fatto coppia l'anno scorso con Rosanna Lambertucci. Casula si è sfogato sui social, e ha deciso di raccontare quello che sta accadendo. Ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate le motivazioni che mi sono state date, sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei VIP, ha annunciato. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest'anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milli, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti, ha concluso il ballerino certamente segnato da quanto accaduto. Appare chiaro quindi che il ballerino sia piuttosto dispiaciuto per quanto accaduto, anche se non è del tutto fuori sarà comunque destinato alla partecipazione della serata speciale in cui ci sono degli ospiti extra. Un ruolo importante ma sicuramente con visibilità limitata rispetto al precedente, proprio in termini di numero di puntate. Non sarà il solo a quanto pare perché anche Lucrezia Lando aveva spiegato ai follower che non avrebbe fatto parte del programma quest'anno, tuttavia la sua sembrava una scelta personale dal momento che aveva evidenziato la decisione di dedicarsi ad un progetto importante che avrebbe poi condiviso con il pubblico che la segue. Quella del ballerino invece non sembra una decisione diretta, ma piuttosto che arriva proprio dalla direzione del programma. I fan hanno chiesto spiegazioni e hanno manifestato tutto l'appoggio a Casula che, comunque, non dice veramente addio a Ballando dal momento che sarà partecipe di alcune puntate.